Io non so cosa ho conservato perché avendo vissuto con me stesso tutto il tempo mi sono appagliato insomma, quindi sono la persona meno indicata a sapere cosa c'è ancora e quali sono i cambiamenti. Un augurio ci sarebbe, quello di provare sempre o quanto più possibile gli stessi tuffi al cuore che certe cose possono dare, come la prima volta che vedi la neve, come quando scopri che la felicità esiste autenticamente e non è un processo impossibile. Mi augurerei di essere quello, di non averlo perso completamente ma perso di no perché la fortuna del lavoro che ho fatto, del messiere che ha fatto è quella che mi ha lasciato conservare tanto, è stata materia tra i ricordi e tra la voglia di non perderla, quella roba lì, quell'essere, quell'esserino lì, mi ha fatto poi, me l'ha fatto avere sempre. Questo è veramente il più grande successo che abbia avuto nella vita e di non aver perso quella. Voglio e capacità di emozionarsi sempre insomma. Sì.